Questo video riguarda i migliori tre pistole a spruzzo. Il vincitore della qualità è il Wagner Pistola a Spruzzo. Dispositivo a spruzzo airless potente e mobile per tutte le operazioni di pittura, anche su oggetti di grandi dimensioni. La pistola airless di qualità garantisce il massimo della comodità grazie al grilletto a due dita e al tubo estremamente flessibile da 15 metri. Per vernici per pareti, smalti e velature, anticorrosione e conservanti per il legno, aspirazione diretta, ugelli reversibili H&A per materiali densi e fluidi e kit filtro, pistola airless leggera con grilletto a due dita regolazione della pressione. Regolazione della pressione I dispositivi a spruzzo airless Control Pro di Wagner sono universali e possono essere impiegati in tutti gli ambiti nei quali sono previsti lavori con vernici idrosolubili o non su base regolare, anche di volume elevato. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il VEVOR spruzzatore airless. Con un motore brushless da 2200W, questo spruzzatore di vernice professionale offre una finitura delicata, simile a quella di una fabbrica. Questa pistola di verniciatura è dotata di una manopola regolabile per controllare la portata per le diverse uscite di vernice. Allo stesso tempo, la pistola a spruzzo in metallo a forma di ventaglio può ottenere un effetto di rivestimento distinto e superiore. La pistola a spruzzo è dotata di un tubo ad alta pressione di 15 M e di un'asta estesa di 0,5 M per supportare progetti a lunga distanza. Il design staccabile offre una pulizia facile e veloce dopo la spruzzatura. La struttura compatta e i materiali di alta qualità realizzati per un funzionamento leggero e conveniente. La spruzzatrice ha un interruttore antipolvere, un manometro, una valvola della pressione di scarico e un filtro del fluido per aiutare il principiante a lavorare in modo più efficiente. Il vincitore del premio è il Bosch PFS 7000. Nebulizzazione su tutti i materiali con un solo utensio. Nuovo motore da 1400 W per nebulizzare le più comuni vernici di fai date non diluite. Massima flessibilità con il tubo flessibile di 4M di alta qualità. Contenitore per colore con attacco SDS e sistema Constant Fit. La PFS 7000 è dotata di un potente motore da 1400 W che consente una perfetta copertura del colore. Adatta alla maggior parte delle vernici di fai date senza o con poca diluizione. L'utensile è adatto a varie pose e direzioni senza ruotare il tubo di aspirazione. Non importa come viene mantenuto l'utensile, il colore viene spruzzato grazie al contenitore per colore Constant Fit. La pistola a spruzzo è dotata di ruote e di un tubo flessibile da 4M rendendola perfetta agli spostamenti quando si lavora nella stessa zona o in diverse aree di lavoro. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.